allora faccio un aggiornamento per quello che purtroppo è successo nel progetto di fusion tesla safe e rise cosa è successo un paio di giorni fa come avevo comunicato anche nella nostra chat telegram dei wild boys anche sul nostro gruppo discord il dev il proprio dall'interno ha fatto il classico rag pull quindi ha prelevato i fondi con tutta una serie di transazioni ha tirato fuori tutta la liquidità non solo da tesla safe ma proprio da tutti i protocolli dell'ecosistema anche rice paz e tutto epic tutto 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 quanto ruotava attorno all'ecosistema di fusion questo è la loro telegram cui ora non è più permesso scrivere messaggi e hanno pinnato questo riassunto della situazione dicendo poi che sono we are sorry this happened e il team cercherà di fare possibile per trovare una soluzione ma non credo che ci saranno delle grandi soluzioni possibili forse forse ci sarà un qualche piccolo rimborso ma non ne non confido molto il prezzo del chiaramente del token ancora ulteriormente dampato negli ultimi giorni ma ora si spiega anche perché nelle scorse settimane negli scorsi mesi ha continuato a scendere proprio per questi rag pull interni a discapito di un progetto che era iniziato bene con una roadmap aggressiva che era stata rispettata nei primi mesi la token tesla safe era stato uno dei dei progetti che erava salito maggiormente nella primavera del 2021 e da lì poi avevano implementato tutta una serie di token che dovevano far parte del loro ecosistema tra cui rice e da paz scusate inizialmente anche avevano fatto bene poi appunto già avevano c'era stato un po un cambiamento con il loro order contest poi al momento di pagare le reward anche se poi in realtà le vanno pagate però hanno cambiato alcune cose e poi ora questo rag pull interno il loro account twitter non è più aggiornato praticamente da un mese dal 7 di febbraio il canale di bitcoin news channel che ha più di circa 7500 iscritti aveva fatto tutta una serie di video su su fujio nel suo ecosistema e ora li ha rimossi tutti praticamente a ora praticamente solo questo video di due giorni fa in cui spiega perché sta vendendo tutti i suoi token e spiega nel dettaglio tutto il rag pull interno come è avvenuto e qui fa vedere appunto dal direttamente dal contratto come ci sono stati tutta una serie di movimenti che vanno poi sono stati indirizzati verso il wallet del proprietario vi lascio il link in descrizione tra l'altro lui dice che aveva un certo momento un controvalore in dollari di token rice e tesla safe di circa un milione di dollari e praticamente ora non valgono quasi più niente poi per chi fosse ancora dentro queste pool il consiglio quello adesso di prelevare vendere quello che si può fare tenendo conto l'unica cosa ecco se trovo il passaggio che massimo si possono prelevare 3100 rice per volta e tenere conto di uno slip e c'è almeno del vista la tassa del meno il 14 per cento io ho fatto con il 20 per cento e poi qui appunto sono le nelle farm dovete fare land stake qui c'era un pulsante meno da cliccare e poi da praticamente andate a rimuovere la liquidità e poi andate a vendere il l'andate poi rimuovere dalla dalla se avete il se avete creato la liquidità dovete andare a togliere qui alla sezione liquidity o i tesla safe o i rice e chiaramente dispiace sempre quando succedono queste cose io stesso ci avevo investito ho perso anch'io preso anch'io una una brutta notizia quando credevo ancora che si potesse recuperare il progetto ma qualcosa in effetti non tornava ricordo che per questi progetti cosiddetti low cap di bassa capitalizzazione del mercato sono tutte delle scommesse di allocare una piccola parte del portafoglio ho fatto un video di non fare questi cinque errori almeno cinque errori di come allocare un portafoglio cripto vi lascio anche questo il link in descrizione di questo video nel passaggio del video a minuto 17 e 14 secondi cioè circa dopo aver elencato i vari errori da non fare ho dato un'idea di come strutturare un portafoglio cripto e che quindi indicativa non da seguire proprio alla lettera ma quello che dicevo è per esempio nelle low cap gem quindi progetti come rice tesla safe di questo tipo dell'ecosistema fusion di non allocare in totale non più del 10 per cento del capitale l'ideale poi in realtà diversificare quindi per esempio su 4 5 6 low cap gem su ognuna non investire più del 1 2 per cento e quello che avevo fatto anch'io e perché poi queste spesso ci sono hanno questa problematica che sono possono fare benissimo magari ti fanno 100 per però ti possono anche facilmente fallire e quindi diversificare la spesso si 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 avranno brutti risultati ma l'obiettivo è di riuscire ad avere come si dice diversificando riuscire a trovare magari una o due che facciano un ottimo risultato e vanno poi così a mitigare i cosiddetti fallimenti che avvengono con le altre io ne ho avuti molti di più i fallimenti di rispetto alle con le low cap gem rispetto a quei progetti che hanno avuto successo ne ero già ben consapevole in precedenza perché sono così sono già in partenza un po delle piccole scommesse infatti il grosso del capitale come dicevo qui io lo strutturo in progetti solidi bitcoin layer 1 o layer 2 di ad alta capitalizzazione come questi che vedete ethereum polkadot cardano polygon solana e gold wax che era anche una block chain nft il diversificato un po tra questi in totale un 20 per cento mentre un 10 per cento del portafoglio sui le monete degli exchange tipo bnb cr8 celsius che anche i wallet o ftx un 10 per cento sui launch pad per generare per poter entrare nelle prevendite e generarsi quindi delle entrate soprattutto quando il mercato sta va bene non tanto in quest'ultimo periodo quando il mercato scende però quando il mercato va bene abbiamo visto dei grandissimi ritorni per esempio soprattutto con ox bull nel periodo di primavera anche tra spad o più ultimamente non sta più facendo un granché ma questi erano solo degli esempi c'è anche altri launch pad come launch zone che vanno benissimo di avere di trovare uno di questi di entrare in uno almeno uno e quando il mercato va bene appunto approfittare dei gli alti ritorni che danno le prevendite e un 10 per cento come detto diversificare sulle varie local jam non è un alla fine resta un 10 per cento circa da investire nel settore nel trend un pochettino adesso degli ultimi mesi dell'ultimo anno possiamo dire che il gaming nft play to earn poi appunto anche qui all'interno ci sono vari progetti adesso qua un dato via il video comunque ecco questo era in sintesi l'idea di come strutturare un protofoglio cripto perché appunto purtroppo possono avvenire questi problemi e mi dispiace veramente per chi ha investito in fusion anche io l'ho segnalata come un'opportunità in effetti se non ci fosse stato il ragpul interno sono convinto che avrebbe dato sicuramente dei grandi risultati purtroppo è successo questo e mi dispiace anche per chi guardando il mio video è entrato ha investito io stesso per primo ho perso dei soldi con questo progetto ma come detto sto diversificando questo è andato male per esempio pink sale altro video di cui ho parlato ha appena fatto tre per quindi alla fine so già che per uno che va male magari un altro mi fa 3 4 per per cui alla fine io guardo nel lungo periodo e l'obiettivo è quello non è quello di riuscire a fare 100 per dall'oggi al domani con un progetto ma di riuscire ad accumulare poi alla fine più satoshi con queste low cap gem diversificando